Ha fatto brillare un Cagliere rugginito che si porta dietro problemi da risolvere. Daniele Conti, l'intramontabile capitano, ha aggiunto un'altra perla alla sua meravigliosa collana rosso-blu. Due punizioni che hanno nascosto le difficoltà sul campo e le polemiche fuori, non del tutto scollegate. Un gruppo che resiste ai tormenti, che ieri ha trovato sicurezza anche tra i pali. Come ho detto sempre, è difficile fare il secondo portiere. Se moli un attimo e ti arriva occasione, come mi è arrivata a me, rischi di fare figure di... Gli amici sono quelli che dicono in faccia anche le amare verità. Quella di Ari Aude è un cinquettio che avrà eco e che riassume forse anche le difficoltà, che non sempre sono di carattere tecnico. In campo, un leader silenzioso, mosso dai grandi amori, il Cagliari e i figli. Sono contento perché l'anno scorso ho esultato col grande, quest'anno col piccolo, quindi sono veramente grandi soddisfazioni. Mi sono anche commosso perché magari pensi che potresti fare determinate cose, poi succede e quindi sono contento di questo. In questi tre anni ho visto veramente che cosa vuol dire essere un capitano, ma non solo fare gol. Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Questo è anche vero? Il più deciso della compagnia E ti convincerà a non arrenderti Anche le volte che rincontri l'impossibile Perché lui ha, l'amico ha Il saper vivere che manca a te Ti spinge a correre, ti lascia vincere Perché un amico punto e basta Perché un amico punto e basta